Ciao ragazzi, qui è sempre la Covid News TV, io sono qui, mi abbraccio naturalmente, noi siamo qui in un locale particolarissimo, stasera c'è una bella rock americana che viene in New York, io mi sono portata molto carino, ma lo dobbiamo ascoltare e assistere a questa bella americana, c'è un locale molto carino, venite con noi perché dovremmo ascoltare in un sentino, perché rispettava le conoscenze, vieni?